Tre punti sicuramente importanti che proiettano la sua bovalinese a ridosso della zona playoff con una gara ancora da recuperare. Una partita, tutto sommato, dai due volte. Un primo tempo in cui il risultato di 0-0 è stato sostanzialmente giusto, un secondo tempo in cui i suoi hanno creato parecchie occasioni da gol e poi hanno concretizzato con Gervasi. Sì, credo che al primo tempo siamo entrati un attimino contratti per via della posta in palio che era altissima, perché io avevo già detto in settimana che questa per noi era il crocevia della stagione. Fermo restando che al primo tempo abbiamo costruito anche qualcosina, il gol che poi mi aiuterete voi con la tv di Gervasi e qualche altra palla su palle da fermo. Però siamo entrati i contratti, male, meglio loro su alcune situazioni. Il primo tempo direi che è giusto 0-0. Al secondo tempo, secondo me, abbiamo fatto due azioni da manuale. Sono delle robe che noi proviamo settimanalmente e sono felicissimo di quello che i miei ragazzi hanno dato. Avevo chiesto tra il primo e il secondo tempo di scioglierci un po'. La tensione ci ha giocato un brutto scherzo. Anche l'Acri era messo bene in campo, non riuscivamo a buttare giù il loro castello e abbiamo fatto fatica. Però davvero bravi i miei ragazzi perché hanno interpretato poi nel secondo tempo la partita che avevo chiesto. Mister, ha detto prima una partita che per lei ha rappresentato un crocevia anche della stagione. Lo sto chiedendo un po' a tutta la Polinesi, al Presidente e anche al Direttore Generale. Si aprirà a breve il mercato di riparazione, il mercato invernale. Mister Chiaco ha bisogno di qualche altro innesto, magari per provare anche a puntare a qualche altro obiettivo, non solo alla salvezza? Mister Chiaco non ha bisogno di nulla. Al momento siamo in venti in rosa, non vedo l'ora di recuperare. Non ci dimentichiamo che manca un giocatore che per noi è fondamentale dal punto di vista tecnico e dal punto di vista umano che è Mirko Odino. Io non chiedo niente alla società se non quella di lasciarci tranquilli per come sta facendo. Io vorrei finire la stagione con questi giocatori perché siamo in venti, ventuno ragazzi, tutti disponibili. Mi hanno dato tutti la loro disponibilità al massimo. Nessuno che si lamenta. Uno spogliatoio sano. Speriamo di riuscire a tenere tutti. Perfetto. Mister, un primo tempo in cui l'Acri comunque sostanzialmente ha affrontato bene la partita, l'impatto con la partita. Ha creato anche due occasioni da gol. Nel secondo tempo invece i suoi hanno un po' mollato, soprattutto dal punto di vista fisico. Ma guarda, il primo tempo sì, detto bene tu. Abbiamo avuto un paio di occasioni abbastanza pericolose. Poi il secondo tempo, purtroppo peccato, non è per lamentarsi sempre, però se non si vede una palla uscita di un metro sul fallo laterale e poi prendiamo gol, puoi fare ben poco. Insomma, soltanto che guardiamo avanti, abbiamo commesso degli errori perché poi abbiamo lasciato da solo il giocatore far gol. Quindi, diciamo che vista la situazione, visti anche gli importunati di oggi, avevamo retto abbastanza bene perché non abbiamo potuto schierare Paolo D'Amico. C'era mezzo servizio anche Ferraro, si è visto. Quindi con quattro andri in campo, insomma, noi ce la siamo giocata comunque viso aperto. Peccato perché il secondo tempo un po' abbiamo mollato, non dal punto di vista fisico, ma dal punto di vista caratteriale, perché loro hanno alzato un po' il ritmo, sono stati belli decisi, cattivi. Noi ci siamo fatti ridire un po' di più, favoriti anche da qualche altra situazione dubbia. Noi ci siamo fatti ridere un po' di più.